Ha compiuto 20 anni lo scorso 8 marzo il DPR 275 del 1999 che ha introdotto l'autonomia scolastica, la riforma della scuola più discussa e contestata degli ultimi decenni. Ne abbiamo avuto conferma nei giorni scorsi quando abbiamo raccolto i commenti dei lettori sul nostro articolo che ricordava questa ricorrenza. Secondo molti con l'attribuzione alle scuole dell'autonomia prese avvio un processo di vera e propria aziendalizzazione dell'intero sistema. La trasformazione di presidi e direttori didattici in dirigenti scolastici completò l'opera. Curiosamente nessuno ha osservato che dal 2000 in avanti, proprio rivendicando l'autonomia, molti collegi dei docenti hanno tentato di evitare l'applicazione di leggi poco gradite. Accadde durante l'era della ministra Moratti con il tutor e con il portfolio e in epoca più recente con il comitato di valutazione per la definizione dei criteri per l'attribuzione del bonus premiale. E per molti anni l'autonomia è stata invocata anche per contrastare la somministrazione delle prove invalsi. Il fatto è che probabilmente l'autonomia è una classica riforma incompiuta. Spesso è servita al ministero per scaricare sulle scuole incombenze di ogni genere, tanto che gli stessi sindacati hanno coniato l'espressione molestie burocratiche, senza contare che per attuarla seriamente sarebbero necessarie risorse finanziarie e umane di una certa importanza. risorse che, ad onor del vero, vennero stanziate nei primi anni e che successivamente sono state erogate con il contagocce. A 20 anni di distanza una accurata manutenzione della legge potrebbe rivelarsi utile, anche se un ritorno alla scuola pre-autonomia appare davvero difficile da ipotizzare. Il tema è sicuramente interessante, tanto che sulla nostra pagina Facebook sono molti i lettori che scrivono e commentano. Continuate a seguirci, noi continueremo ad occuparci di questo argomento. Commentate qui nel canale YouTube, scriveteci e continuate a consultare il nostro sito www.tecnicadellascuola.it perché noi continueremo ad occuparci di questo argomento. Grazie. 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 Grazie.